Se volessi scrivere, non ho paura di un foglio di compensato, non lo dico. Una rigiola, non lo dico, no. Ma sei scema, è una letteratura, una letteratura forte, non una lettera di fila. Ah, una letteratura che... Sei scema, veramente. Non è capito, scusa, tengo problemi, posso pure arracciarmi. Problemi di tutte le maniere, direi. Faccio, prima una foto, tengo forte, io lo voglio capire. Capito? Io mi posso prendere questa responsabilità a livello... Non ti preoccupare, ma per chi faccio? Responsabilità limitata. Ah, scrivi, ah. Io ti dico che tu scrivi, come? Io la scrivo nel senso che la scrivi meglio di me, ma ne capite che scrivo. Ah, bene, come, ладно? Non com'è, non com'è già, ma è già... Non ce l'è, non è l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Apre se spostiamo, per debi, ma se che ripresa... Ata c'è, tu non sa chi scrivere... Ata poi sai shcrivere, non sai shcrivere... ...ha me li scrivere, mi dite? E allora, si scrive... Eh, però non è capito di scrivere, vabbè. Ma nonna mia, avanti, ah! Ha detto che c'è, capì? Mi fa scurtare, ha detto che... Mi ci stanzia a quello che hai, ma signore... Io, ti faccio piacere, avanti. Io ti ho detto, a te tu scrivi. Questo mi dà la stanzelietta, che si tristina. E ma tu la scrivi, o no? C'è una volta che mi ha bocca un po' fuori, ma non mi ha ripetito. E ma se ci mi fai una rapina, Eh, allora, scrivi a te. Devi dire pa' la voce, allora. Eh, ci stanno. Ok, scrivi, ah, avanti. Ah. Caragnora! 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 Car... Caragnora! Caragnora! Caragn... Caragnora, tutto attaccato. Questo è perché sapevi scrivere. Caragnora! È normale che tu sei attaccato. È unaagnora! Caragnora, tu sei attaccato. Caragnora! Caragnora! C'erano dove loro facevano cara, sbarra mia signora. Caragnora! 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 Però che se non capisci? Che se è russa? Perché c'è la città che nascerà la Russia? C'è capito? No, non è nata la Russia! Ma che ce fa? Se lo fa dire. Se lo fa tradurre. Ah, lo fa tradurre. Caragnora! Caragnora! Senta qua, sì. No, se io capisci, io capisci, se no... Caragnora! Caragnora! Masciatella! No, masciatella! Masci... Mascia! No, no, masciatella! Io ti minuini, fammi scrivere Masciatella! Masciatella! Allora scrivi Masci! 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 È la luce dei miei occhi, dentro dei cui quali non c'è più che oscurità! Ah, sì, ci fanno dire tutti! Ci fanno! Oscurità! D'engarraggio da luce! Ehm... Non c'è più che oscurità! ... Infatti! Di vengasa per l'egare. Ia! Io! 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 Io potrei popa, non schifio te popa, tati! Vai! Io! Ehm... Pidda a ringolci, vai! Io potrei popa, non schifio te popa, tati! Io potrei popa, non schifio te popa, tati! io non ho le mani io non ho le mani per scrivere justabuja 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 dicit in cielo a figli vostri Riscite in cielo a figli vostri, figli vostri, che rispostano a fuggere e a paghera. Sono un traduttore a fuggere e a paghera. Sì, rispostano a fuggere e a paghera. Poi se io capisco, capisco, se no... Ma io, ma io non sono uomo. Prima io. Allora, allora, allora. Vengo dopo quattro minuti. Hai scrivito la lettera? Ma stai scrivendo la lettera, bella e buona te la vai? Ah, no, non sta bene, vai per me e c'è la lettera. Questa cosa mi ha aspettato. Allora, andate a vedere che è buona, allora. Non me la prendiamo tempo qui. Lascia stare, hai capito il fatto. Che hai capito? Perciò tua moglie prima è il profetto di sposare l'uomo contro l'uomo. E tu non sei più uomo, tu non senti il richiamo della guaglia. Lascia stare. Ma prima, che bella moglie, dalla maglia, l'assamello non vuoi con l'occhio a dinta e ti faccio vedere. Come ho cogliato la guaglia io? Come hai capito? Come hai capito? Tu, vicino a me, non sono niente. Tu metti, non c'è un uomo. Non faccia vedere. Non fai mai parlare, stavo dicendo che io sono troppo uomo. Ma prima, come sai, tu la sera, che la mia moglie mi fa? E fa? Qui la sera, la mia moglie mi ha provo, che è una maniera. E fa? Mi ha provo, mi ha provo. Ti provo? Mi ha provo. Mi ha provo. Mi ha provo, si mette là, non sai che mi fa, ieri che mi fa. Mi ha provo, si mette qui. E i palletti. E io mi metto indolente, vorrei capito, toccare. E niente, se ho vedi a se niente, a ieri mi ha provo qua, mi ha fatto, mi sono là, mi ha fatto un ballo, il ballo della lisca, lo so. Sempre roba di pesca. Ehi. Il ballo della lisca, non ora. Eh, la lisca, la lisca. E poi, il ballo delle sette pene, si chiama. Si stracciano la vena, la vena. La vena. Ma comunque, mi ha provo, a me mi fa venire male i capi, tutto ne vedo. Allora, come hai fatto scrivere la faccia? Ma perché devo finire, ma io non sono uomo. E poi? Fai, ma fornì, che si sta. Che si sta. Non sono uomo, che si sta. Che si sta. Che si sta. Che si sta. Piccio. 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 Eh, un piccio. Ma che ha un piccio? Quello, c'è un piccio. 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 Piccio, che ho, 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 ho. Eh, ma non si scrive il piccio, è un piccio. Ma non c'è il piccio, piccio, metto il piccio in dal letto. Ma qua la la, ma qua la la, ma qui l'ha 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 gloria! Ah che istfluo ero? Ma chemsa ieri? Cazzo l'egiziano. L guess, è l'egiziano. Mi non capisci niente, ripeto i segni e non capisci qua. Piccio. Piccio. Piccio, il Cilicella qui divoesti, Listen only for you a Cilicella, cantasse benemente But no have a Benavent, cantasse benemente avanti. No, ho, lo faccio uscire a Pietro cinno allora, va Pietro cinno. La sentita, la sentita, la sentita prima, la sentita, la sentita prima, la sentita. Ma ci ha cercato io, ma... Ma la sentita su. Ma la sentita su, la sentita su, la sentita su. La sentita su, quando è arrivata? Ah, va bene, quando è arrivata io venai a fare io. Io capisco, se non ho capito. Allora, ci dice la figlia di vostro che andasse bene avanti. andassi a benevento avanti casinò 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 te i casinò i casinò i i e taggetti non c'è eugenio pazza allora scrive io a singolare capisce caso di scrive allora faccio una cosa mi metto io però metto una freccia che va verso di te a questo già consegna io la lettera umana che non puoi scrive casinò casinò i te la rispedischi te la rispedischi coprimi 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 il papura va bene a mette sicuri scrivico con la prima navi amma mette per l'era se è così e se è così e così no e l'altro tu lo puoi sapere, hai capito? e se è così è così e se è così no ma non si capisce? se è così è così io ci faccio una cosa, io non ci faccio disegnare la mano poi ci muovo le foglie che lo so muovi se è così è così ma no, se è così se è così è così e se è così no e allora sai che ti dico, ignora? ignora, ignora ti dico, sai che ti dico a te? ignora ti dico, ti dico dentro al piazzinino vai